Caso Serra, i giudici Mourino, comportamento da stigmatizzare. Sono state pubblicate le motivazioni della conferma delle due giornate di squalifica di Jose Mourino per il caso Serra decisa dalla Corte d'Appello Federale, che ha respinto il ricorso della Roma. Il motivo? Non ci sono evidenze certe per ribaltare la decisione del giudice di prime cure. Così, per i giudici, non può in alcun modo revocarsi in dubbio che l'atteggiamento dell'allenatore della compagine capitolina. Per quanto di competenza di questa corte, sia da stigmatizzare, non soltanto con riferimento a quanto avvenuto sul terreno di gioco, ma anche e soprattutto in merito al comportamento da questi tenuto al termine dell'incontro. Ben 45 minuti dopo l'espulsione, argomenti questi che non lasciano alcun margine neanche per ridurre la sanzione erogata. Posta, altresì, la recidiva del reclamante.